Oggi vi voglio mostrare un programma che ho fatto apposta per creare i server dedicati per i giochi di valve e l'ho fatto con un'interfaccia grafica in modo per renderlo più facile nell'uso e l'ho chiamato cybersteamcmd gui infatti gui sta per graphics user interface Allora questi sono i file necessari per il programma ma a noi quello che dobbiamo usare è cybersteamcmd gui.exe fare doppio clic ora la prima cosa da fare è creare una directory per la destinazione del server appunto io la creo sul desktop per questo esempio e la chiamo fordato2server ora per creare un server bisogna scaricare alcuni pacchetti quindi iniziamo da qui da steamcmd un clic poi un clic sul pulsante scarica steamcmd quindi si rende download ok fatto che ci verrà scaricato un file eccolo qui e verrà anche installata in automatico la cartella steamcmd quindi ora andiamo su aggiorna installa ve l'ho fatta vedere apposta che qui bisogna inserire infatti quella directory appena scaricata percorso steamcmd quindi aprite il programma dentro la cartella dove abbiamo avviato il programma c'è la cartella steamcmd selezionate ok qui selezionate life for dead 2 perché stiamo facendo life for dead 2 faccio una premessa perché che è l'unico gioco poi che ho di valve quindi per forza questo perché si possono creare anche questi altri giochi i server e io li ho creati quindi non avendo il gioco non ho potuto testare direttamente proprio in game invece con life for dead lo posso fare perché ce l'ho ok quindi io vado con life for dead 2 in login dobbiamo inserire un account steam questo è richiesto soltanto per alcuni giochi tipo alliance worm dedicate server doda 2 poi altri in teoria non dovrebbe servire per questi qui dovete togliere la spunta e inserire il vostro account steam e poi proseguire invece per life for dead, life for dead 1, 2 e altri giochi possiamo anche usare il login in anonimato quindi lasciamo la spunta qui in percorso server appunto selezioniamo dove va il server, la destinazione quindi è questa cartella che abbiamo creato nel desktop che sarà il nostro server ok qui lasciamo spuntato con valida file e infine clicca su aggiorna installa si aprirà questa finestra premetto che qui ragazzi bisogna aspettare perché deve scaricare tutti i pacchetti necessari per il server quindi bisogna aspettare dagli 8 ai 15 minuti più o meno poi dipende sempre dalla connessione quindi se uno ha una connessione buona quello dipende sempre da noi purtroppo ok siccome dura un pochino come vi ho detto io metto in pausa il video e poi riprendo quando sta per terminare quindi ci vediamo tra pochino eccoci ecco qua ha terminato proprio in tempo ho messo ok allora ragazzi ora bisogna scaricare andiamo in moduli perché bisogna prendere alcuni pacchetti ancora che sono necessari per prendere i privilegi dell'amministratore del server quindi andiamo qui percorso server sempre il server appena creato c'è un desktop l'efforto del server qua sempre il gioco l'efforto del 2 qui dobbiamo andare in ordine quindi partendo dal primo pulsante poi al secondo e poi al terzo quindi ragazzi questo è importante quindi partiamo dal primo aspettiamo che partiamo dal load e la solita estrazione dal load ok source mod aspettiamo che parte ok questo è un peletto più grande di prima tanto non ci mette niente sta estraendo ho automatizzato tutto ragazzi non bisogna scaricare nulla manualmente quindi penso che sia molto semplice l'ultimo tanto non necessita di scaricamento basta premere e lo installa in automatico quello che serve ok fatto ora andiamo all'ultimo un click apposto ora abbiamo finito ma dobbiamo postare noi come amministratori quindi andiamo su modifica qui percorso server l'effort add 2 server qua sempre il gioco l'effort add 2 e si accendono questi file comuni diciamo che le più importanti sono che poi non ha cose sono necessarie però ve lo dico host e mod id sarebbe per il banner e il messaggio di avvio quando si entra in un server che si avvia la partita e fa vedere quella schermata con un banner un messaggio del server se potete modificarlo sono questi due in file cfg quello importante è il server che diciamo fa tutto in automatico il programma ci pensa non manco è necessario stare qui però l'unica cosa che vi ricordo è se di usare un gruppo steam oppure per avviare le partite oltre i 4 player perché altrimenti non vi fa entrare insomma quindi o tramite steam group supera il limite oppure tramite l'ip e la porta quindi io uso lo steam group per prenderlo basta creare un punto un gruppo su steam e andare in gestione amministratore e prendere appunto lì lo steam lo steam ed poi se vuole modificare qualche altra cosa ma io lascio così andiamo in source mode che qui è il più importante perché bisogna mettere noi come amministratori quindi andiamo qui admins underscore simple scendiamo fino all'ultimo qui fuori dobbiamo mettere il nostro steam ed tipo questo questo è un esempio però noi dobbiamo premettere il nostro per prendere il steam ed ci sono due modi uno è di andare dentro la partita avviare una partita entrare in partita e vedere lì lo steam ed una volta proprio in game oppure andare su questo sito steam ed punto io inserire il vostro nome cliccare su look up io metto il mio ok eccolo qua e ve lo da steam ed lo copiate e lo incollate qui mettete le virgolette le doppie apici quindi così poi e copiamo questo ok allora vi spiego il 99 è il massimo che si può mettere come permessi diciamo e la z è lo stesso che serve il massimo per noi che siamo super admin ma se volete aggiungere nuovi admin dovete andare per dirvi a capo andate a capo inserite lo steam ed del vostro compagno il vostro amico che volete fare admin a lui date non 99 perché questo solo voi perché è unico dovete dare 98 che ne so 97 più si scegne più hanno meno permessi e non date fate due punti sempre non so 98 due punti non date z ma date per dirvi qui ho l'esempio hanno messo abc lo so voi dite ma che cos'è ora vi mostro andate in admins levels ok eccoli qua i flag si possono usare a reservo slot generico admin b c kick al giocatore lo butta fuori d lo può bannare quindi se voi volete potete fare a b c oppure uno solo oppure ne date due oppure quanti ne volete ok questi qui sono i flag come questo da usare per i vostri amici voi questi che siete i super admin mi raccomando ok fatto questo osservate ora non ci resta che avviare il server ok qui spostiamoci su percorso server seleziona andiamo a selezionare sempre il nostro server ok configurazione gioco scegliete il gioco noi left for data 2 il nome server qui mettiamo il nome del server che appare nel gioco io metto metto questo ma voi mettete quello che volete qui mappa io le ho messe tutte anche della stand quindi sono tutte e 14 le campagne ufficiali di valve in rete lasciamo internet per giocare online oppure lan per la lan la porta qui diciamo dobbiamo fare delle premesse allora la 27 015 di default è impostata per l'effort del gioco quindi se voi giocate sulla stessa macchina cioè sullo stesso pc avviate sia il gioco che il server allora conviene che cambiate quindi mettete una cifra superiore da 27 015 non so mettete 27 016 27 020 27 050 come volete più alta diversa da quella del gioco quindi io metto 27 016 e questo lo dovete fare se fate sullo stesso pc se invece avete due pc uno in cui far avviare il gioco l'altro fate avviare il server allora non c'è problema lì qualsiasi mettete siete a posto e questo è utile anche quando dovete avviare il gioco perché su due computer diversi non avete problemi quindi o avviate il gioco o avviate il server o avviate steam prima non ci sono differenze invece se avviate il gioco e il server nello stesso computer anche nell'avvio del gioco ci sono delle cose da fare nel senso delle premesse perché se io avvio il gioco con steam chiuso vabbè il gioco quando lo avvi si avvia anche steam poi avviate il server il gioco va bene potete entrare in server tutto a posto ma se crashate e il server rimane online e chi c'è dentro oppure possono anche entrare altre persone ma voi che avete crashato volete riaprire il gioco per poter rientrare non lo potete fare perché non vi fa più aprire il gioco questo purtroppo è proprio un problema non di server ma è proprio di valve che purtroppo è così sullo stesso pc purtroppo più che altro quindi per risolvere questo problema voi fate come vi dico io ora cioè tutto anche nella system try system diciamo il steam è chiuso il gioco è chiuso allora come prima cosa dovete avviare il server ora con tutte le impostazioni che andremo a fare lo avviate una volta avviato il server andate a avviare il gioco che poi tanto ci penserà il gioco anche ad aprire steam però in questo modo se dovessi crashare io posso anche rientrare perché vado a riavviare il gioco e me lo riavvia tranquillamente me lo fa avviare quindi non ci sono problemi avviatelo sempre così così non avete problemi in nessun caso questo vale per chi avvia ripeto nello stesso computer sia gioco che server ok un'altra cosa importante però prima di tutto ricordatevi che la porta che voi andrete a mettere dovete aprirla nel router per fare questo ragazzi ci sono diverse guide anche online quindi è inutile fare altre guide che già ce ne sono migliaia quindi basta vedere una guida per aprire le porte nel router siete a posto max giocatori io metto 8 ma voi potete mettere quello che volete io lascio 8 in Rcon potete usare una password che sarebbe per chi usa diciamo chi vuole controllare il server da remoto quindi deve inserire una password e con questo qua lo potete fare cioè scrivete se volete vedere quello che avete inserito potete mettere la spunta ok io metto qualche cosa ok qui comando personizzato inserite dato che abbiamo modificato anche il file server cfg se vi ricordate quindi mettete più per farlo caricare in automatico e x e c spazio e poi scrivete il nome del file cioè in questo caso server.cfg se volete mettere altri file potete anche aggiungerli a fianco mettete più sempre e se ce l'ho ho scritto una cosa e sempre la storia e x e c e poi il nome del file a me in questo caso non serve basta questo qui in sicuro questo io lo lascio che abilita diciamo l'anti-sheet di valve quindi se volete metterlo sicuro mettete la spunta se volete fare come se voi nel parametro aggiungeste sicure oppure se lo togliete fate come trattino in sicure quindi questo è per chi già smanettato un pochino comunque quello lasciate sicuro qua in modalità console modalità console se voi lasciate la spunta si avvia diciamo andremo a premere avvia si avverà in una finestra del server nella finestra del dos diciamo come cmd che scrivete in eseguo insomma che io la uso perché è anche migliore in tante cose perché fa vedere più informazioni e quindi fa vedere più cose dell'altra versione in più potete fare altre cose che ora vi dico se invece la togliete parte la modalità con l'interfaccia grafica che ora andremo a vedere però prima di fare questo vi ricordo questo tasto che fa salva le impostazioni lo premo così io ho tutto salvato come l'ho messo ora così non devo quando io esco a programma e lo vado a riavviare non devo rinserire tutti i dati ma se voglio solo cambio mappa e sto a posto e premo avvia e sto a posto così ok ok ora vi faccio vedere prima la modalità vabbè prima andiamo a provare questa diciamo la vera la console che quella che uso ok però prima di fare questo dato che le mappe ufficiali funzionano sicuro vi voglio far vedere che io ho aggiunto anche che potete caricare le mappe custom basta mettere la spunta qui su mappa personalizzata vi si apre questa sessione campagna che andrete a selezionare la campagna io ora ho dentro tbm survival remake poi vi cambierà e vi inserirà tutte le mappe di questa campagna io ne seleziono una qui faccio un'altra premessa al volo tanto penso che lo sapete ma lo faccio per chi non dovesse saperlo ricordatevi che come quando giocate nelle mappe custom dovete avere la mappa personalizzata la mappa custom sia dentro l'addons dentro la catena addons del gioco ma dovete anche copiarla dentro addons del server eccola qua io l'ho fatto senza farvi perdere tempo così però ve lo faccio vedere ok ecco perché il programma lo vede qualsiasi mappa mettete vera vista e la troverete già direttamente qui non dovete fare niente quindi selezionato tutto io avvio eccola qua si aprirà il source dedicate server è quello con l'interfaccia DOS con CMD insomma prompt di comandi come volete chiamarlo e qui caricherà la mappa con tutte caricherà tutte le impostazioni che abbiamo messo ma ci penserà tutto il programma noi quando abbiamo fatto non ci resta che a noi inviare soltanto intanto apro la cartella per avviare il gioco ce l'ho qui ok quando già vedete questo già potete avviare anche il gioco io Steam era chiuso quindi ora ho avviato il server avvio il gioco lui avviando il gioco tanto mi avvia anche Steam vedi in automatico ovvio però in questa maniera se io crasho nel gioco avviare di nuovamente Left 4 Dead e mi si avvia senza problemi così posso rientrare nel server se fate al contrario come vi ho detto prima non vi farà più avviare il gioco quindi dovete stare attenti solo a questa cosa che non ci vuole niente una volta capito cambia nulla se fate avviare una cosa con un'altra insomma ok ora che carica vedremo in basso a destra che io ho usato lo Steam Group come vi ho detto in questa maniera ve lo mette direttamente qui in basso eccolo qua ragazzi con il nome che io ho dato Left 4 Dead 2 Cyber Crash per entrare nel server posso sia caricarlo da qua diciamo fare sempre gioca gioca online altra ricerca qui vengo qua scelgo la mappa metto questa qua sempre quella che io ho dentro al server creo una lobby e qui metto server del gruppo Steam vado indietro e poi inizio giusto ragazzi così già potete entrare oppure direttamente da qua clicco vedo già che è il mio server e vedo anche che mi ha caricato già direttamente la mappa come vi ho detto ho già caricato tutto qua ragazzi faccio una premessa voi potete dire ma io ho messo 8 nel programma perché vedo 4 qui perché questo purtroppo è proprio un gioco di valve che è bloccato a 4 in cooperativa e in 8 player versus perché 4 contro 4 per togliere questi limiti purtroppo bisogna installare dei plugin ma ora però voi avete già il server tutto preimpostato appunto anche per l'installazione dei plugin quindi abbasta che installate i plugin per sbloccare il numero dei giocatori e potete entrare fino a 20 è che dopo dal programma stesso una volta messi i plugin avviate da programma e lui già in automatico poi vi riconoscerà il numero che mettete nel programma già ve lo imposta in automatico però purtroppo c'è bisogno di plugin e per fare quello ragazzi o ci sono guide oppure se proprio non riuscite me lo chiedete nei commenti cercherò di fare un altro video apposta che vi spiega come inserire anche i plugin ok ora andiamo a collegarci in questa mappa così vi faccio vedere che funziona e andiamo a vedere anche il comando admin che ci aprirà un menu admin perché servono i plugin ragazzi per sbloccare in generale gli slot liberi anche per modificare il server come a noi piace insomma io per dirvi l'ho personalizzato con zombie diversi tank con abilità diverse perché a me piace così insomma l'ho fatto come volevo e quindi voi voi anche potete farlo tranquillamente scaricando i plugin che volete quindi quello però è un gusto personale uno cerca i plugin che vuole e li inserisce però già in questa maniera avete già il server con la preimpostazione che già potete installare anche i plugin quindi avete tutto però già funziona così il server volendo ragazzi ora vi faccio vedere eccola ragazzi questa è la mappa che mi ha caricato ok se io ora apro la chat faccio punto esclamativo admin invio come vedete sulla sinistra c'è il comando proprio il menu d'amministratore il menu d'amministratore con uno vi apre i comandi per i giocatori se io premo uno ora mi si apre questo posso giustiziare il giocatore colpire il giocatore espellere bandire imbavagliare incendiare tracciare oppure con nove successiva se guardate sotto potete continuare con altri menu tipo congela la bomba incendiare a tempo e compagnia bella vado avanti ancora ok sono finiti ci sono questi qua identifica e poi è finito no clip eccetera oppure nella seconda comandi per server potete scegliere una mappa eseguire una configurazione e ricarica di amministratori oppure il 3 vi fa votare eccola qua diversi voti questo è tutto un menu che avete poi come vi ho detto ci sono anche plugin per poter aumentare cose da fare come amministratore quello ragazzi è tutta un'altra storia comunque però il server è già funzionante così se io voglio giustiziare già posso farlo faccio comando 1 per il giocatore giustizia il primo giustiziamo ellis facciamo 2 eccolo qua ragazzi per farvi vedere che i comandi funzionano apposto così ragazzi questo è tutto per il momento ora vi voglio farvi vedere giusto una cosetta al volo come dire va bene o si clicca sulla x o si scrive exit invio con exit invio è meglio è che svuota diciamo le cose che ha usato nel server che tanto non ci vuole molto ma ora vi faccio vedere il tempo qualche secondo insomma che svuota e si chiude poi nel programma ragazzi intanto qua possiamo anche vedere nel programma io ho aggiunto quindi se voi volete giocare ai giochi mappe ufficiali è basta che togliete la spunta e vi ritorno con la mappa solo e basta scegliere le mappe ufficiali ci sono tutte questo è quello eccolo qua quasi chiuso comunque questo diciamo è già pronto tutto pronto volete vedere la modalità interfaccia grafica vi faccio vedere anche la partenza della modalità grafica se io avvio vi faccio vedere che parte il server come quelli ufficiali però è limitato a mio parere molto cioè vedete vi riconosce il gioco però bisogna inserire di nuovo il nome del server le mappe andate a scegliere ma non le trovate tutte se guardate vi faccio vedere arriva fino alla campagna 5 perché poi iniziano credit tutte le cose che non c'entrano nulla e guide navigazione i test non ci sono le mappe ufficiali se guardate solo fino alla quinta campagna ufficiale quindi mancano un sacco di campagne ecco perché come dicevo io uso la modalità console oltretutto è anche migliore appunto per vedere diverse informazioni che vi da perché vi da tutte le informazioni anche quello che si scrive nella chat fra i ragazzi che scrivono in chat ve lo dice vi dice chi esce chi entra e chi ha sparato ad un altro chi insomma vi dice un sacco di cose che l'altra modalità poi non vi dice e poi lì non riconosce le impostazioni in automatico quindi non conviene proprio usarlo infatti uso sempre questa che onestamente è comodissima tanto l'abbiamo qui in interfaccia grafica a che ci serve quella noi scegliamo una mappa da qui possiamo scegliere porte da qui i giocatori da qui quindi quella a noi non interessa proprio zero quindi ragazzi e poi possiamo scegliere anche le mappe personalizzate che lì non ci sono e non bisogna andare a modificare mappe così file per farlo i parametri o cose varie basta attivare il gioco le mappe custom oppure gioco quelle ufficiali ora ve lo voglio far vedere una cosa io chiudo l'ultima cosa e poi chiudiamola allora quello che possiamo buttare qui ragazzi in tutti questi file sono questi archivi rar sempre se volete altrimenti si possono anche lasciare però se vi serve spazio anche se sono 20 mega più o meno tutti quindi comunque questi se volete li potete anche buttare per il resto lasciate tutto così com'è per un corretto funzionamento del programma andiamo a avviare due secondi per far vedere l'ultima cosa sto chiudendo allora quello che volevo dirvi è che una volta fatto tutti i passaggi per creare tutto quanto il server e l'abbiamo già pronto all'uso quando lo avviate di nuovo il programma non vi serve più scaricare questi file anche se è scontato però preferisco diciamo che lo sappiate non serve più riscaricare questi file ma basta aggiornare se si vuole aggiornare quindi basta questo lo riconosce in automatico selezionare il gioco mettere per questo server e fare aggiornare tanto lui aggiornerà solamente il server non installerà di nuovo tutti i file ma solo gli aggiornamenti oppure se volete giocare andate direttamente su avvia server riconosce già tutto in automatico perché abbiamo impostato cambiamo mappa che poi se la vogliamo cambiare giocare custom se vogliamo giocare con le custom e avviamo basta quello che vi serve è questo o aggiornare o avviare se volete per il resto non dovete fare più niente quindi penso che quando arrivate a questa fase sia facilissimo da fare da usare quindi e questo è tutto solo questo volevo dirvi solo questi due passaggi non dovete fare altro più facile di questo non so ragazzi quindi ditemi voi se avete problemi volete sapere qualche altra cosa nei commenti iscrivetelo lasciate un like al video se vi è piaciuto condividete il video sempre e mi raccomando iscrivetevi al canale un saluto a tutti alla prossima